E' stata travolta da un'auto che ha attraversato un incrocio nel semaforo rosso ed ha preso in pieno la macchina su cui viaggiava. E' morta così, poco dopo, l'arrivo in ospedale Loredana Rezza, 40 anni di fondi. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio, lungo la Flacca, nel paese del Pontino dove la donna viveva. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere del mezzo. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, l'auto della vittima, che attraversava l'incrocio con il semaforo verde, sarebbe stata travolta da un'auto che proveniva da sinistra e che avrebbe superato le macchine incolonnate al semaforo rosso per impegnare l'incrocio. L'esatta dinamica dell'incidente è però ancora al vaglio dei carabinieri. La donna soccorsa da un'ambulanza del 118 è morta al suo arrivo in ospedale.